11 dicembre 2021, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, non permettete che la fiamma della fede si spenda dentro di voi. Non c'è vittoria senza croce. Camminate per un futuro di grandi prove. Cercate forze in Gesù. In Lui è la vostra vittoria. L'umanità cammina per l'abisso dell'autodistruzione che gli uomini hanno preparato con le loro proprie mani. Soffro per quello che viene per voi. Datemi le vostre mani e Io vi condurrò a Colui che è la vostra unica via, verità e vita. Conosco ciascuno di voi per nome e vengo dal Cielo per aiutarvi. Ancora avrete lunghi anni di dure prove, ma Io sarò con voi. Coraggio. Il Signore asciugherà le vostre lacrime e vedrete la mano potente di Dio agire. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.